Un altro caso di morte sul lavoro in Toscana. Questa volta ha perso la vita un ragazzo di 24 anni mentre lavorava su un trattore in un terreno scosceso all'interno di un'azienda dello zio. Si chiamava Lorenzo Fino, era originario di Roma. Nel momento del tragico incidente era a bordo del mezzo agricolo. Nell'oliveto, là dove il terreno è pendente scosceso, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Quel peso è stato insostenibile. Lorenzo è morto sul colpo a causa dei gravi danni riportati. Inutili i tentativi dei soccorsi per rianimarlo. Tutto è stato vano. Stamattina verso le 8, come tutti i giorni, il ragazzo era salito sul trattore per svolgere il suo lavoro nei campi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri di Figline Valdarno, il ragazzo era stato regolarmente assunto presso la fattoria. Il mezzo è stato sequestrato. La salma invece è stata rimossa soltanto nel primo pomeriggio ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre oppure meno l'autopsia. Subito dopo la disgrazia, i titolari dell'azienda hanno sbarrato l'attività bloccando l'accesso anche ai fornitori che si recavano per eseguire gli ordini. La morte di Lorenzo è la seconda nel Chianti nel giro di pochi giorni. Nel fine settimana scorso un 59enne aveva perso la vita, anche lui travolto da un trattore in località Uzzano, sempre nel territorio di greve in Chianti.